Siamo arrivati! 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 Ciao! Allora… Quando rivedremo questo video Saremo in paranoia, in qualche spivania Dario, visto che è stato uccidio in brovola sempre Mi dipendo perché poi non so se risaliamo Io ho detto che avete fatto qualche miglia a noi Sasso, oggi com'è stato Sergio? Sergio insomma così, tu sei stato perfetto Sergio un po' così, così Grazie Sasso Tanto per non derri sazio Grande Di che è il telefono? Certo, quello che è caduto in acqua Quello che sta per cadere È sobbaco Il caletto Quando scendiamo? C'è da 18 metri Massimo 24 Guarda quant'è il tuo di coppia quando accresco le mani Massimo 50? E oggi saliamo di ripeto Quindi vi fate fare questa figura Andriamo dentro? Ho detto di fare un paleno E poi se c'è già qualche piccolo passaggio senza scontare Ma c'era una finestra Perché l'alternativa L'alternativa è la finestra Scusi, dipende un po' le mani con Si dipende una sconda No? Qualc'è il po' di ciuffo? Scusi, dipende un po' di ciuffo? E' un po' di ciuffo Perfetto Scusi Scusate ragazze, stasera io so che non eravamo finita la cena No, no Possiamo? Ma davvero? No Siamo troppo generosi A base di pesce? A base di pesce A base di pesce A base di pesce A base di pesce Ma magari il numero di secchi Lo prendo, secchi ve ne prendo anche le uomini A base di pesce In veteran A base di pesce La sconica Lo sentate 務 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.